Pillole di non solo suoni, la storia della musica passa da noi. Ben ritrovati siete pronti per qualche ricordo sempre a tema Sanremo? Ecco abbiamo visto che sul palco dell'Ariston sono saliti molti anche per questa edizione ma fin dalle settimane precedenti lacrmesse, il direttore artistico e conduttore Amadeus aveva chiarito che non ci sarebbero stati super ospiti stranieri come invece era consuetudine nel passato. Un po' la crisi, un po' una precisa volontà, insomma sono lontani i tempi in cui al festival erano stati invitati personaggi come Freddie Mercury dei Queen per esempio. Ecco che oggi ne vogliamo ricordare qualcuno di quei super ospiti stranieri, allora partiamo proprio dal 1984 quando furono chiamati Queen e i fan rimasero incollati davanti a piccolo schermo. La benda avrebbe dovuto cantare in playback ma Freddie Mercury, intramontabile frontman genius regolatezza insieme, si ribellò e decise di cantare senza microfono. Radio Gaga conquistò il pubblico con la sua esibizione che passò alla storia. Applausi, cori, fan entusiasti anche per i Depeche Mode che sul palco dell'Ariston, presentarono Enjoy the Silence, era il 1990 e quel lancio del giubbetto al pubblico presente è diventato un simbolo e anche appunto un ricordo indelebile della storia del festival. Era invece il 1989 quando Sir Elton John approdò sul palco dell'Ariston, sfoggiava un orecchino a forma di croce, un cappello con gli strass indimenticabile, poi l'attesissimo ritorno 5 anni dopo. Con Elton John nel 1994 c'era anche RuPaul, regina delle drag queen, con cui interpretò una versione remix della sua celebre hit Don't Go Breaking My Heart. Per l'occasione furono necessarie ben 4 ore di trucco. Poi il dietro fronte inaspettato nel 1995, infatti in quella stessa particolarissima sera, Pippo Baudo dovette prima sventare un tentato suicidio e poi fare conti con un capriccio della pop star britannica che rinunciò alla partecipazione. A volerlo di nuovo invece è stato Carlo Conti che con Elton John sul palco di Sanremo nel 2016 ha conquistato l'Ariston, questa volta senza polemiche. Nel 97 invece Mike Buongiorno usò queste parole per introdurre il duca bianco David Bowie, talmente grande da essere l'unico cantante al mondo quotato in borsa. Cantò Little Wonder, brano tratto dall'album Earthlink. Che dire invece di Madonna che a Sanremo? Nel 1995 si presentò in abito lilla, pallido, ricoperto di cristalli, abbinato anche a tacchi altissimi e tre anni dopo tornò all'Ariston con un abito invece in vinile nero conquistando il pubblico con la sua Frozen. Sul palco non è mancata neppure Celine Dion che come era prevedibile ha proposto quello che è il suo successo senza tempo, la sua My Heart Will Go On nel 1998. Nel 2000 quale modo migliore di inaugurare il nuovo millennio se non con l'adrenalina degli oasis? Bene, i fratelli Liam Manuel Gallagher fecero scatenare l'Ariston con Go Let In Out e presentarono l'album Standing on the Shoulder of Giants. Ma all'Ariston andò anche Britney Spears cantando Not a Girl, Not Yet a Woman. Aveva regalato al pubblico anche una gag indimenticabile in quell'occasione. Infatti scambiò Raul Bova per il vero conduttore del festival fingendo di non riconoscere Pippo Baudo. Jennifer Lopez invece ha scatenato il pubblico nel 2002 prima dell'intervista confidenziale con la padrona di casa che all'epoca era Antonella Clerici. Infine ha vinto due Grammy, è l'artista con il maggior numero di nomination nella storia dei Brit Awards, Dua Lipa, è stata scelta da Amadeus per incantare il pubblico del suo primo festival di Sanremo. La celebre cantante per l'occasione si è esibita con Don't Start Now e allora ci piace tornare al 2000 con gli Oasis e quella loro canzone Go Letting Out che ci ricorda quando erano ancora un duo. Buon ascolto!